Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Come state? Bene, bene. Bene, bene, bene. Tu come stai, Roberto? Alla grande, alla grande. Ero un po' infreddolito, sono andato a mettere felpa e tutto, perché prima ero maniche corte, ho detto, ho spento il condizionatore. Un po' di cold exposure, no? Ah beh, sì, è che questo era un po' tardi, poi per il sonno ci rovina. Allora, è appena dato via Daniele, abbiamo toccato, Daniele Francescon di Serenis, abbiamo toccato un sacco di punti interessanti riguardo l'ambiente lavorativo, salute mentale. Ora, con voi vorrei parlare di un altro pilastro, secondo me, fondamentale di, possiamo dire anche del benessere in generale, che è quello dell'avere un corretto ecosistema, o quantomeno un ecosistema di supporto. E come sapranno anche poi tutti, tutti, tutti gli ospiti, oggi parleremo un po' di quello che è il vostro mastermind. Infatti Andrea e Marco, poi con Dario di, con Dario Vignali, condividete, poi mi racconterete voi la nascita di questo mastermind, condividete un mastermind che, non so, da quanti anni è che va avanti questo, questo mastermind. Oddio, quant'è Marco? Cominciamo con le domande difficili. Sette, più o meno. No, infatti no, a dieci ancora non ci siamo arrivati, però sono veramente tanti anni. Fantastico, quindi parliamo un po' di questo e sono estremamente curioso anch'io da questo punto di vista. Intanto chiedo a tutti i partecipanti, se poi avete delle domande, di lasciarle sempre con un chat, che poi dopo le recuperiamo, comunque le proiettiamo a schermo. Vi faccio la prima domanda di apertura, un attimino se vi date un contesto, magari prima Andrea, poi Marco o viceversa, su chi siete e cosa fate velocemente, così poi partiamo con la nostra conversazione. Alla grande. Chi parte? Vai Marco o vai Andrea. Ah ok, avevo capito, sì sì, scusami, non volevo... Guarda, io nasco come ingegnere e poi ho lavorato, ho fatto un percorso abbastanza tradizionale nella consulenza di direzione e avevo questa grande passione per la crescita personale che ho iniziato a coltivare con il blog Efficacemente lontano 2008. Nel 2014 ho preso un anno sabbatico dal lavoro tradizionale dove avevo raggiunto la posizione manager, mi sono appassionato al progetto Efficacemente più che mai da quel momento, quindi dal 2015 ufficialmente è diventata. Ciao Elena. Dal 2015 quindi è efficacemente, il progetto Efficacemente è a tutti gli effetti la mia attività principale, quindi dedicarmi, diffondere la crescita personale e l'efficacia personale, farlo in una maniera scientifica, concreta e un po' meno fuffosa di quello che è stato fatto magari in passato è diventata la mia missione. Vai Marco? Allora io ragazzi ho scoperto il mondo della crescita personale perché ero molto molto timido da giovane e questo derivava da una forte balbuzia e lo sentirete probabilmente in questa call anche se da piccolo balbetavo tipo tantissimo non riuscivo spesso a parlare ora molto meno e dalla passione, è nata poi la passione anche per la comunicazione, da un sacco di anni collaboro con il dottor Genaro Romagnoli che è psicologo e quindi mi occupo del lato comunicazione e organizzazione di ciò che fa il dottor Romagnoli, quindi fondamentalmente ci occupiamo di la parte più psicologica dello sviluppo personale, quindi per esempio dalla gestione dell'ansia, alla meditazione, alla gestione dell'emotività. Fantastico, poi con Marco come era successo per Daniele vi rinvio poi al podcast che abbiamo registrato tra l'altro da poco, l'ho trovato sempre sul canale YouTube e arriva subito la prima domanda che è poi quella che vi avrei fatto fra un attimo di Elisa che chiede scusando per l'ignoranza ma non so cosa sia un mastermind ed è esattamente la domanda con cui volevo un po' aprire questo discorso perché effettivamente non tutti probabilmente magari conoscono cosa significhi avere un mastermind e quindi ci introducete un po' cos'è il concetto di mastermind, cosa significa e soprattutto cosa vuol dire a livello pratico essere all'interno magari di un mastermind. Ok, Marco vai tu, vado io? Vai tu, le domande difficili te le passo sempre. Bravissimo, grazie. Allora, il concetto di mastermind nasce un po' con il libro, il famosissimo libro di Napoléon Hill come, oddio, un lapsus. Pensa e arricchiuscite stesso? Pensa e arricchiuscite stesso, ma mi bocciano all'esami crescita personale, ricordo il titolo del libro di Napoléon Hill, che è un libro, diciamo che, vabbè, è un pilastro della crescita personale, non è un qualcosa che consiglierei oggi, però in passato l'ho letto, l'ho trovato interessante e uno di questi capitoli parla proprio del mastermind, ovvero insieme a questo gruppo di menti da mettere insieme per raggiungere un determinato obiettivo. Parlando papale papale in maniera molto semplice, un mastermind è un gruppo di pari, di persone con cui condividiamo una serie di valori, una serie di interessi per determinati progetti di business o progetti professionali, possibilmente non persone in competizione tra loro, quindi in ambiti in cui ci possa essere una competizione, e questo gruppo di pari si può incontrare con una periodicità o ci si può confrontare anche tramite whatsapp, tramite call o attraverso incontri dal vivo per scambiarsi quelle che sono state le best practice nella propria attività, quelle che sono stati gli obiettivi raggiunti, come si sono raggiunti, le strategie che hanno funzionato, le strategie che hanno funzionato meno, e il mastermind lo si può applicare sia in ambito business, ma sia anche in ambito di allenamento, in altri ambiti che non siano esclusivamente legati al tema business. Questo è un po' una definizione quanto più sintetica possibile. Ma Andre, dal tuo punto di vista, secondo te, perché poi mi piace portare l'accento anche sempre, ne parleremo anche in questo evento, mi pare domenica, dell'importanza dell'ecosistema, secondo te c'è una differenza tra quello che può essere definito un semplice ecosistema di supporto, quindi banalmente magari circondarsi di persone che condividono i nostri valori, che però magari di cui non conosciamo effettivamente, non abbiamo un rapporto personale, e invece un mastermind che magari diventa qualcosa proprio di più personale, dove magari hai un rapporto diretto con l'altra persona, cioè c'è una differenza secondo te tra queste due cose, quindi tra un ecosistema di supporto e un mastermind, o potrebbero essere identificate in grosso modo come la stessa cosa? Ma premesso che non è che appartenga a 10.000 mastermind diversi, quello con Marco e Dario è l'unico, e sicuramente quello più longevo, è quello che ha funzionato meglio, e con Marco e Dario siamo diventati amici. L'elemento di amicizia per me è uno dei valori, è uno degli aspetti a cui do più valore di questo mastermind, perché c'è un livello di appunto sintonia valoriale, anche se poi magari ci scorniamo su determinate cose durante questi mastermind, però quello è un elemento molto importante. Poi ci sono molti altri professionisti che conosco, con cui mi confronto e con cui ho piacere di confrontarmi, dove però magari non c'è questo livello di intimità e di amicizia. Quindi vedo le due cose come diverse. Quindi il mastermind per me rappresenta un qualcosa di un po' più intimo, ecco, e soprattutto anche spesso sono stato anche invitato in altri mastermind, con mastermind da 10-15 persone, e secondo me quelli funzionano un po' meno. Quindi anche il numero di persone è importante. Sì, aggiungo che per quella vedo io un sistema di supporto è effettivamente sono più persone di solito. Quindi può essere l'esempio che ha fatto Andrea, non lo so, può essere una chat su WhatsApp con 15 venditori, 15 sportivi, 20-30 persone, oppure magari il gruppo di persone che va a camminare del sabato mattina e si motiva perché vanno tutti, è quello per me, il sistema di supporto. Il mastermind ha la componente del fatto che è qualcosa di un po' più strutturato, cioè ci si trova in un determinato momento, che può essere online oppure offline, e si parla di determinate cose. E poi c'è sicuramente l'elemento di la conoscenza, cioè ci si conosce molto di più. E questo consente di dare feedback, come magari vedremo dopo, molto più precisi di un semplice sistema di supporto. Chiaro, chiaro. Ma voglio arrivare poi a qual è stato l'impatto che magari il vostro mastermind ha avuto sulla vostra sia crescita personale ma anche professionale da un certo punto di vista. Però prima siamo curiosi, penso un po' tutti, di sapere come è nato il vostro mastermind. Nel senso, è stato qualcosa di organizzato tra virgolette a tavolino oppure è nato così in modo spontaneo da una semplice amicizia? Come è nato un po'? È nato, parlo, vado io Marco perché diciamo ho dato in là per primo diciamo lo stimolo, poi in realtà se non fosse stata per la conoscenza di Marco probabilmente non esisteva, non sarebbe esistito neanche efficacemente. Quindi, ricapitolando, io ho conosciuto Marco quando il blog era già stato avviato, però era un semplice hobby. Marco è stata la persona che lui aveva già diversi progetti online di notevole successo, è stata la persona che mi ha aiutato a vedere il blog all'epoca in una maniera diversa, quindi come un potenziale business e non semplicemente un hobby, quello che era. Dario dall'altra parte invece ha contattato me, conosceva efficacemente, mi ha contattato, conosciamoci. Dario all'epoca aveva iniziato da poco, aveva questo piccolo blog che si chiamava dariovignali.net se non sbaglio. mi aveva contattato, conosciamoci, ci siamo incontrati a Milano e mi sono trovato molto bene subito con Dario a livello proprio umano e quindi ho pensato, proviamo a mettere insieme queste due persone che nella mia vita comunque si occupano, all'epoca non ci fossero tante persone che si occupavano di business online e quindi ho pensato mettiamo insieme e avevamo un obiettivo, tra l'altro un nome ben preciso avevamo dato al Mastermind che era il One Million Euro Club, ovvero l'obiettivo era quello di arrivare a fatturare un milione di euro con i nostri con i nostri business, rispettivi business online. All'epoca non so se fossimo arrivati alle sei cifre ma scarse probabilmente, quindi stavamo parlando di un obiettivo molto più grande. Quindi è nato con un obiettivo business legato proprio al business. Poi, ripeto, per me il valore che c'è stato è stato proprio legato anche al trovarci a livello umano e ci siamo scambiati tantissime idee non solo da un punto di vista business e quello è stato un po' il valore aggiunto. Chiaro. Marco, magari passo la palla a te. Dal tuo punto di vista qual è stato l'impatto più significativo che ha avuto questo Mastermind sulla tua crescita personale e poi anche professionale? Allora, secondo me l'impatto più forte è quello di espormi a visioni molto diversa dalla mia. Cioè, secondo me il Mastermind che funziona di più sono quelli dove ci sono gli stessi valori ma ci sono idee molto diverse. Ok. Per esempio, quando noi ci troviamo, di solito ci troviamo una volta all'anno per qualche giorno, andiamo magari in montagna, in qualche bell'albergo e si parla proprio a ruota libera, abbiamo visioni molto diverse di come funziona quello di cui parliamo, no? Del business. Per esempio Dario, almeno per me, ha sempre, deve essere sempre più di me, per esempio, a notare determinati trend che stanno partendo. È sempre quello che ci dice, per esempio, che è stato il primo che ci fa. Sapete che c'è un nuovo social? Instagram. So che voi tutti date pescondato, ma un tempo non c'era Instagram, sappiatelo. Noi boomer andavamo su Facebook. Quindi è sempre lui che propone cose nuove e dei trend nuovi che stanno partendo. Andrea invece, almeno per la mia percezione, è la persona più strategica, per cui che fa scelte un po' più ragionate di me e di Dario e quindi questa diversità ci consente di chiedersi ma forse dovrei effettivamente pensare di più alle novità parlando con Dario oppure pensare in maniera più strategica parlando con Andrea. Quindi questo per me è stato l'impatto più forte, cioè il fatto di espormi a idee diverse dalle mie, con persone con gli stessi valori. Perché idee e valori sono cose molto diverse, cioè se non avessimo gli stessi valori, cioè se io andassi fuori con un gruppo, per esempio, di imprenditori online, quindi facciamo la stessa cosa, che però l'unico scopo è vendere quanto più possibile senza guardare in faccia a nessuno, e credetemi ce ne sono tanti, mi è già capitato, cioè nel senso mi hanno invitato a una cena, mi sono trovato con queste 15 persone, dopo mezz'ora volevo spaccare la faccia a tutti, perché sembrava che l'unica cosa da fare era vendere pacchetti da 5.000 euro e dopo scappare. Ovviamente sto esagerando, però sì, bisogna avere gli stessi valori e idee diverse. I idee diverse sono fondamentali, perché sennò ti ripassi la palla, cioè rimani nella tua bolla e dici sì, c'ho ragione, che bello, torni a casa sapendo di avere ragione su tutto. Non è questa gran crescita, ecco, per cui idee diverse ma stessi valori secondo me. Questo è un punto interessante che volevo poi toccare, allargando poi il cerchio magari dal mastermind invece magari all'ecosistema, quindi la differenza che facevamo prima. Qual è il vostro punto di vista riguardo la costruzione di un proprio ecosistema, nel senso, secondo voi è meglio da un certo punto di vista cercare un gruppo di pari, di persone che la veda solo come noi, oppure come hai appena detto tu, avere comunque delle visioni differenti, quindi rimanere aperti, consapevoli magari comunque delle nostre scelte, delle nostre decisioni. Cioè è utile costruirsi una bolla che vada, ipotizziamo, facciamo un esempio pratico su una persona che magari vuole acquisire l'abitudine, non lo so, alla palestra o alla meditazione. È utile che si magari costruisca attorno un ecosistema di persone magari che meditano, che sono super sul pezzo riguardo quella cosa lì, oppure è anche utile avere altre visioni differenti, quindi di persone che gli dicano ma no, non serve a niente, oppure che li portano tesi contrarie e questo magari lo fa mettere in discussione. Cioè secondo voi un giusto ecosistema come dovrebbe essere creato? C'è un bilanciamento che si potrebbe fare tra queste due parti. Ma comincio se vuoi, cioè l'ecosistema di supporto per definizione è di supporto, se ti tira giù non è di supporto, quindi ovviamente ci vogliono persone che, allora, poi dipende anche dallo scopo, cioè per esempio il massimo che abbiamo noi non ha come scopo di motivarci o di essere costanti, siamo già motivati a sufficienza da noi. Negli esempi che hai fatto invece lo scopo può essere il supporto che fra l'altro, sto leggendo Fatalità con un libro sulla motivazione legata all'esercizio fisico scritto da uno psicologo e sembra che i gruppi o l'avere un amico con cui vai a correre piuttosto che la palestra, piuttosto che in bici, siano delle cose più potenti di mille altre tecniche di motivazione. Quindi se si parla di motivazione ovviamente bisogna fare, crearsi un gruppo per andare in palestra piuttosto che a correre che deve essere estremamente motivato. Quindi il gruppo di supporto deve essere di supporto. Ovviamente faccio una chiosa a tutto ciò, nello sviluppo personale si parla spesso di lasciare andare le persone negative, io dico sì e no, cioè sì ci sta, se hai una persona che è una padra dal piede e si lamenta ogni volta che lo vedi, lasciano andare. Però dobbiamo anche essere consci che dobbiamo evitare per forza tutte le persone che ci danno fastidio o ci tirano giù. Perché le rincontreremo, cioè il fatto che, non lo so, la suocera ci triggerà quell'emozione lì, a parte che non possiamo lasciarla andare la suocera, ma la stessa emozione magari ce la triggererà il nuovo capo. Perché magari si creano le stesse dinamiche, no? Quindi sì, sistema di supporto, attenzione a, non è che dobbiamo allontanarci da tutto ciò che c'è di raggiù, perché nella vita non è così semplice, insomma. Assolutamente. Andrea, volevo poi venire da te e chiederti, per passare un po' al lato pratico, anche per dare dei consigli alle persone che ci stanno ascoltando, quali sono dei consigli che ti senti di dare a una persona che magari si trova in un momento di difficoltà, ci sta ascoltando, si rende conto dell'importanza del circondarsi di persone di un ecosistema di supporto? Quali sono quei consigli che puoi dare tu a una persona che si trova in questa condizione per costruirsi il proprio ecosistema di supporto, anche online, non per forza magari offline? Sul tema online ci sono tante possibilità, però a mio avviso sono meno efficaci, quindi è utile avere, non so, partecipare, e lo dico contro i miei interessi, perché noi abbiamo visto che in diversi hanno scritto, ah io sono un più efficace, che cos'è il più c'è una nostra membership adesso senza star a far troppa pubblicità, o A365, e abbiamo dei forum, e a mio avviso questi forum sono molto utili perché trovi delle persone che sai essere lì, con gli stessi valori, con la voglia di migliorare, e queste persone a volte non è così facile trovarle nella vita reale, ok? Quindi l'online ti metti in contatto con delle persone che hanno valori, passioni, anche molto di nicchia, che offline è molto difficile trovare. Quello è un grande vantaggio dell'online. Però, se parliamo proprio di supporto, è importante averne la propria vita offline, che sia il compagno, compagno, compagna, marito, moglie, o che siano degli amici con cui poterci parlare, confrontare, cioè quell'elemento lì è importante. E parlando di ecosistemi di supporto legato allo sport, con l'esempio che facevate, di cui parlava anche Marco, un elemento che mi viene da aggiungere è, tu chiedi, servono delle persone che in qualche modo ti diano un equilibrio, ti diano punti di vista diversi, o delle persone che comunque la pensano tutte come te. Secondo me, su quell'area specifica, avere a che fare con dei fanatici, delle persone molto appassionate di quella tematica, per me è importante, perché mi porta ad, soprattutto se ho bisogno di quella motivazione, se ho bisogno di entrare in questo nuovo mondo, avere a che fare con persone genuinamente appassionate di queste tematiche non può che accelerare il mio percorso. Poi, devo far parte solo di una setta e non confrontarmi a nessuno? Certo che no, però ecco, se voglio migliorare nell'ambito sportivo, essere a contatto con persone molto appassionate, che parlano molto di quelle tematiche, finissimo. Poi naturalmente nella mia vita devo avere anche persone che mi aprano a mondi diversi a cui non sono abituato e che mi permettano anche di vedere, di uscire un po' dalla mia bolla, di uscire dalla cassa di risonanze in cui posso essere definito e mi aiutano anche a vedere il mondo in una maniera diversa, quello sì. Non ti sentiamo. Non ti senti più, A? Scusate che avevo disattivato l'audio per non fare questo. Stavo chiedendo, da questo punto di vista, Andres, secondo te e anche poi Marco, è utile, secondo voi è utile circondarsi di un ecosistema, tra virgolette, al nostro stesso livello, quindi se sto iniziando a meditare, trovare persone che stanno iniziando a meditare o a fare esercizio fisico, oppure trovare anche delle persone che sono già a uno step successivo. Perché vi riporto un esempio pratico che mi è capitato quando ho fatto un periodo in palestra. Vedevo molto spesso palestra di crossfit, che magari è un ambiente un po' diverso dalla palestra classica in cui vai lì per i fatti tuoi, ma subentra tanto la competizione, e vedevo tante persone che magari si avvicinavano al mondo del crossfit, quindi della palestra in questo senso, e poi però venivano scoraggiate nel continuare perché si ritrovavano a, tra un po' avanti rispetto al loro livello attuale. Quindi da questo punto di vista, secondo voi è una cosa che può valere in qualsiasi ambito della nostra vita, dalla crescita personale al benessere, a qualsiasi cosa, e in questo senso come lo strutturereste voi in vostro ecosistema, nel senso trovare persone verosimilmente al nostro livello, oppure ambire anche a livelli più, tra virgolette, avanzati? Io direi sicuramente cercare di, se hai la fortuna di essere a contatto con persone che sono a un livello più avanzato, però che sono uno step più avanti, due step più avanti, non dieci step, perché se sono dieci step avanti, hanno delle modalità di pensiero, delle sfide, degli obiettivi talmente diversi dai tuoi, che non riesci neanche a capirli, cioè c'è proprio un linguaggio diverso. Se invece hai a che fare con persone che sono uno, due step avanti, quello ti aiuta a crescere. Se hai a che fare con persone che sono tutte allo stesso livello, quello potrebbe non essere d'aiuto invece. Chiaro. Marco, vuoi aggiungere qualcosa? Come la pensi? Sì, sì, cioè sicuramente se bisogna essere più o meno allo stesso livello, ovviamente no esattamente allo stesso livello, ci deve essere un forte scarto, sia per la persona che è sopra, perché si annoia a dover spiegare cose per lui o per lei ovvie, sia per la persona che invece deve ancora arrivare ad un certo livello, se no non capisci neanche il gergo magari, cioè se entrassi in una palestra di crossfit così non penso che capirei il vostro gergo, subito ci metterai un po'. Quindi sicuramente... Piano di sigle, quindi non capiresti niente, è ancora fatico io. WOD! Io conosco solo WOD. Io neanche quello, quindi siamo a posto. Per trovare, quindi per andare... Parliamo un po' di come fare nella pratica per... Sì, allora, io se fossi una persona che sta cercando di creare un proprio mastermind o comunque un gruppo di persone, la cosa che farei è o andare sui gruppi Facebook o usare Meetup, il sito proprio meetup.com o qualcosa di simile, org, non me ne ricordo, e sicuramente cioè far la persona che organizza, perché sapete, spesso ci aspettiamo sempre magari che ci venga data la pappa pronta, ma in realtà, come ha fatto Andrea, fra l'altro, ci vuole sempre qualcuno che dica, no, cioè ragazzi, che proponga l'idea. Quindi sicuramente, cioè, secondo me, anche per farla semplice, ci sono dei gruppi Facebook molto probabilmente di qualche cosa a cui le persone che sono in questa live possono essere interessate. Può essere fare uno sport, non lo so, Milano corsa la domenica mattina, insomma, ci sarà qualche cosa sicuramente. Quindi proprio farla semplice, scrivere, oh ragazzi, io ho iniziato a, non lo so, correre da poco, piuttosto che mettere su un business di profumi, chi vuole parlare di questa cosa e creare un piccolo gruppo. Non serve essere in tanti, noi siamo in tre e stiamo bene in tre, quindi anzi più di cinque persone, sei persone direi che per un mastermind sono fin troppe. vi potete trovare online o dal vivo e quindi c'è ampio spazio di trovarsi, anche con persone distanti. Cioè, io ho detto chi vuole correre a Milano il sabato mattina, ma può essere di andare su di un gruppo che si occupa di tutt'altro e vi trovate solo online. Quindi questi qua sono i modi con cui io lo farei. una cosa che aggiungerei e che è stata un po' il modo in cui è nato il nostro club, il nostro mastermind, è, almeno all'inizio, partire con un obiettivo preciso. Quindi non è, noi all'inizio, facciamo un mastermind, poi boh, non lo so, no, facciamo questo gruppo con questo obiettivo, cioè avere un target preciso. Poi il tema dell'obiettivo preciso è passato in secondo ordine, ma perché si sono instaurate tutta una serie di dinamiche per cui il mastermind ha funzionato. Però ecco, all'inizio partirei con, ah, ti va di organizzare questo viaggio insieme? O ti va di andarci ad adenare insieme? Ti va di, dovrei fare, vuoi aumentare il numero i passi al giorno? So che lo vuoi fare anche tu. Ti va di fare un gruppo, lo chiamiamo 10K, 10.000 passi al giorno, o 70.000 passi a settimana. Quindi avere quell'obiettivo preciso può essere utile. Un'altra cosa che mi sento di aggiungere è che questa esigenza noi la vediamo tantissimo nella nostra community, in quella di efficacemente, che è il motivo per cui abbiamo iniziato ad organizzare i meetup, quindi gli incontri, proprio per permettere alle persone di incontrarsi. Ne faremo uno a breve, a marzo, proprio con i più efficaci a Bologna, e lì l'idea è sì, ci sarà un ospite, faremo degli interventi, naturalmente è un modo anche per incontrarci offline, però l'obiettivo è proprio far incontrare le persone, più che avere una comunicazione una a tanti, creare queste connessioni, perché sai che in quel contesto ci sono persone che comunque hanno valori simili ai tuoi, hanno passioni simili ai tuoi, hanno anche dei modi di comunicare simili ai tuoi, perché fai parte della stessa community, ecco, quelle sono delle occasioni d'oro. Magari già avete questo tipo di occasioni, approfittatene in quei contesti per creare questo vostro ecosistema o iniziare a trovare le prime caselline di questo ecosistema, di questo master. Bellissimo, e Saverio fa una domanda, secondo me molto intelligente, che dice a questo punto come riconoscere il proprio vero livello per poi trovare il proprio ecosistema. E secondo me questa è una domanda non banale, non scontata, perché poi si può effettivamente ricadere in questo trend, magari del pensare di non essere abbastanza, oppure al contrario pensare di essere troppo al di sopra di altre persone. E qui voglio anche stravolgere il punto di vista, o meglio capovolgere il punto di vista, nel senso che se no ci siamo chiesti come possiamo costruire e trovare persone di supporto a noi. Il punto di vista opposto è come noi possiamo poi essere utili anche all'ecosistema di cui apparteniamo o al mastermind in cui apparteniamo. Ci sono dei, secondo voi, dei punti chiave per gestire la relazione con le altre persone all'interno di un mastermind o all'interno di un ecosistema? Vado io, Marco. Ora, solo perché sono in primo piano, una cosa che, perché poi quando soprattutto Dario ha iniziato a parlare molto, il mastermind, il mastermind eccetera eccetera, poi diverse persone mi hanno contattato, ti va di fare un mastermind insieme o cose di questo tipo? Ecco, in quei contesti la risposta è automaticamente no, nel senso che non può nascere un mastermind è semplicemente perché una persona viene lì, ti conosce, sa che magari gli puoi dare del valore e quindi in una maniera parassitaria tu vai lì e gli dici, ah facciamo il mastermind insieme, cioè ma se non ti conosco, non c'è nessun tipo di relazione, è difficile. Quindi, così come nei rapporti di mentorship, così come in generale nel networking, dobbiamo sempre essere noi per primi a dare, metterci nell'ottica di dare valore, di condividere quel poco che possiamo magari sapere all'inizio, però sempre un'ottica di dare. Io come posso essere utile a questa persona? E allora è lì che crei una relazione anche sana, perché se vado lì, ah sì, ho sentito che questi mastermind sono fighi, quella persona lì mi piace, secondo me può aiutare nel mio obiettivo, gli vado a chiedere se facciamo un mastermind. Si chiama mastermind, si chiama consulenza. Eh, bisogna pure pagarle. Esatto, assolutamente, sì sì, sono d'accordo con Andrea. Allora, beh, per rispondere alla domanda sul livello, io starei sulle cose pratiche, cioè nel senso, se domani metti su un'azienda che fa profumi, non so perché oggi ho in mente di profumi, fa l'altro, non li uso neanche, quindi è un mistero. Comunque, inizio e ho un piccolo shop su internet. Se voglio creare un mastermind specifico sull'e-commerce di beauty, vado su di un gruppo Facebook che parla di magari business su internet e dico che vorrei organizzare questo mastermind. Oltre che dire quello dirò il mio livello, cioè, e per dirlo dirò nella pratica, cioè, ho ragazzi, ho iniziato da tre mesi, fatturo 5.000 euro al mese e ho un dipendente. Quindi più o meno sto cercando persone che siano sullo stesso livello. Cioè, quindi se, diciamo, nella pratica a che livello siamo, secondo me non ci sono problemi di percezione errata di quello che facciamo. E per rispondere alla domanda sul dare valore, sicuramente quando c'è un rapporto di amicizia, lo scambio di valore è intrinseco, ecco. Quando si è molto visibili online, effettivamente si viene contattati da persone che invece di chiedere una consulenza, chiedono un mastermind, ma quello che dovrebbero chiedere una consulenza, quindi queste cose non si fanno. E non sarebbe sano per nessuno, cioè, creare un mastermind di questo tipo. Invece crearlo con persone che più o meno so raggiungerlo al stesso livello si crea un'amicizia molto più forte di quella che si può creare con una persona che è molto più in su, fondamentalmente, ecco. Chiaro. Vai, Andrea. No, semplicemente volevo aggiungere, rispetto all'esempio che faceva Marco, ancora prima di entrare nel gruppo e automaticamente chiedere chi vuole fare un mastermind, io starei in quel gruppo per uno, due, tre mesi, se vedo delle risposte a cui posso dar valore, do valore, cioè cerco di emergere come una figura di riferimento all'interno di quel gruppo, se noto altre persone che danno valore, partecipano così, magari inizio a creare un'interazione e lì, in una maniera un po' più naturale, può nascere poi l'idea di creare un mastermind, che è quello che abbiamo fatto, cioè, non è che io e Marco ci siamo conosciuti una sera, senti, facciamo un mastermind, ci siamo conosciuti, Marco seguiva efficacemente, mi ha dato un sacco di consigli utili e già lì, quindi, crei una percezione di valore, anche di autorevolezza e tutto il resto, idem con Dario, e dopo che c'erano stati queste interazioni, che adesso non ricordo benissimo, però ci conoscevamo da diverso tempo, a quel punto abbiamo deciso, ho suggerito di creare questo link per creare il mastermind, però dopo diverso tempo. Chiaro, sì, alla fine si torna poi sempre al discorso delle relazioni umane, nel vero senso di termine, non c'è essere affiatati anche da questo punto di vista, e da questa prospettiva vi chiedo qual è il ruolo poi della comunicazione efficace, in questo senso, all'interno di un gruppo di pari, di un mastermind, di un ecosistema, nel senso, secondo voi dovremmo porci anche la questione di come comunicare agli altri all'interno di un ecosistema per portare del valore, o anche a volte magari cercando di essere, non dico non essere noi stessi, ma essere in qualche modo costruttivi nei confronti delle persone che partecipano al nostro mastermind, nel nostro ecosistema, laddove magari noi siamo invece delle persone più introverse che non parleremo in questo modo, non ci comporteremo in questo modo. Secondo voi è senso in qualche modo falsare la nostra personalità con lo scopo di portare una visione, una critica, una comunicazione costruttiva, oppure la cosa più semplice è quella di essere noi stessi in qualsiasi contesto. Allora, mi collego fra l'altro alla domanda di Valerina, che è molto bella, quindi comincio a corrispondere e dopo mi collego alla domanda. Allora, quando parliamo di comunicazione, secondo me la regola è cambiare sempre rimanendo a se stessi, cioè è ovvio che non dobbiamo snaturarci, noi siamo noi, non possiamo avere una comunicazione che va contro i nostri valori. Allo stesso tempo, le persone che dicono, eh, io sono così e non ci potete fare niente, non ha alcun senso, perché se sei stronzo non ha senso direi io sono fatto così, ok? Cambia, cambia. Quindi, per esempio, a proposito di un po' stronzo, pensate che Andrea è la persona che mi ha fatto notare che ogni tanto quando esprimo delle cose sono abbastanza spigoloso. quindi per me è stato utilissimo e mi sono quasi arrabbiato con tutte le persone che avevo conosciuto prima, perché nessuno me l'aveva mai detto, perlomeno come ha detto Andrea. Quindi, sicuramente approcciarsi al... Allora, già il fatto di entrare in un mastermind tendenzialmente ci consente di entrare in contatto con persone che sono aperte al dialogo, quindi già sono molto più predisposte al feedback, a dare e a ricevere feedback. Quindi, per collegarmi alla domanda che c'è qua, è difficile dare consigli, cioè dare supporto alle persone? Io aggiungo sì, se sono consigli non richiesti, ma se sei in un mastermind, io do per scontato che quando parliamo di qualche cosa, se andrai e viene in mente qualche cosa, me la dica è il contrario. Se no, cosa stiamo lì a fare? Sì, siamo lì anche per le saune e quelle sono stupende, però siamo lì anche per darci dei consigli, giusto? Quindi, in un mastermind, darci supporto è qualcosa di, ovviamente, scontato. Dobbiamo imparare, ovviamente, anche a dare dei consigli, perché c'è modo e modo di dare consigli, quindi, ovviamente, impareremo a comunicare nel modo corretto con la persona che abbiamo davanti. Ci sono persone che amano feedback più diretti, ci sono persone che amano feedback più morbidi e va tutto bene, siamo noi che dobbiamo imparare a modificare leggermente la nostra comunicazione per le persone. Non possiamo aspettarci che noi siamo così e tutti gli altri ci devono prendere così, ovviamente non snaturandoci. Scusa, Roberto, mi collego proprio subito a quello che ha detto Marco. Torno a quello che ho detto all'inizio di questo intervento sul tema del mastermind, cioè l'importanza anche di farlo con persone con cui ha un certo livello di fiducia, perché in tutta onestà mi è capitato di trovarmi in dei contesti con delle persone professionalmente bravissime, con cui però, utilizzando un'espressione marchigiana, dovevi camminare un po' rasente al muro, per evitare, diciamo... Facciamo i nomi, facciamo i nomi. Con Marco, con Marco e Dario, io sono sereno di condividere tutta una serie magari di problematiche legate al business o di obiettivi anche futuri che non abbiamo ancora svelati, perché so che c'è un livello di fiducia e di confidenza tale per cui sono sereno a quel punto di vista. E quindi quello è un aspetto importante. E lì perché, come diceva Marco prima, sotto ci sono probabilmente dei valori comuni che vi uniscono, no? Certo. Sì. E c'è una domanda che è estremamente interessante di Roberto Icardi, la seconda che ha fatto nell'organizzazione di un mastermind. È utile formalizzare dei tempi definiti per le condivisioni? E io direi assolutamente, cioè non si può semplicemente dire facciamo un mastermind e dopo non succede niente. Bisogna cominciare con una schedule, cioè con un programma che si può cambiare, cioè per esempio con Andrea e con Dario noi abbiamo cominciato a sentirci ogni, non mi ricordo se settimana, ogni due settimane, ogni mese, non mi ricordo. Abbiamo fatto così per un periodo e dopo abbiamo visto che ci troviamo molto meglio a trovarci una volta all'anno per circa quattro giorni e parlare di tutto. Per noi è molto più stimolante. Con un mastermind creato da poco è ancora più importante perché sennò non si fa assolutamente niente. Quindi suggerirei quando si inizia a creare un mastermind di decidere già una cosa. Suggerirei qualcosa di un po' stretto fino a subito, cioè di frequente, nel senso di magari vi sentite ogni settimana. Dopo se è troppo scalate e potete fare meno, ma se già dall'inizio cominciate, ci sentiamo una volta ogni due mesi, la seconda volta non si presenta più nessuno secondo me, a meno che non ci sia una super amicizia fin da subito. Io sto parlando di mastermind creati magari grazie a due gruppi Facebook oppure con l'amico di un amico di un amico. Quindi sicuramente bisogna fare una schedule fin da subito. Io volevo tornare, bellissima domanda questa innanzitutto, volevo tornare però sul discorso dei feedback e della relazione all'interno del proprio ecosistema e chiedervi quali sono dal vostro punto di vista delle buone, delle metodiche per dare dei feedback o comunque per avere una comunicazione, come detto prima, in questo senso più efficace, nel senso una comunicazione che sia costruttiva anche per l'altra persona. Marco ci dicevi già il discorso di, diciamo, di affilare la lama in base a che abbiamo davanti, cioè di usare una comunicazione diversa rispetto alle persone che abbiamo davanti. Ci sono altre strategie, altri consigli che vi sentite di voler condividere riguardo appunto la condivisione di feedback, di pareri o anche di critiche talvolta in modo che siano comunque costruttive e ben viste e ben accolte soprattutto dall'altra persona o dalle altre persone. Sul tema feedback mi viene in mente un interessante intervento che ho ascoltato qui a Londra del professor Adam Grant, un professore di psicologia molto conosciuto. e sul tema feedback ha dato un insight interessante, nel senso noi in Italia, un po' in giro per il mondo, feedback, ah sì, sono preziosi, è importante dare, ricevere feedback. Lui quello che invece, la domanda che è stata fatta al professor Grant, dall'host dell'evento, è stata ma ci sono delle cose su cui hai cambiato idea negli ultimi anni? E lui ha detto sì, il feedback. Io non do più feedback e non credo più sul tema feedback, perché i feedback proprio per la loro natura sono orientati al passato, quindi è una sorta di giudizio su un'azione che hai fatto e non hai fatto in un momento passato e quindi per definizione tu quell'azione non la puoi cambiare. Poi è utile per carità tutto quello che vogliamo. e il suggerimento che lui dava era, io preferisco dare dei consigli sul futuro, cioè su come, su quali cose, cosa puoi fare diversamente in futuro, cioè se ti trovi in questa situazione in futuro, il mio consiglio è di, che da un punto di vista, diciamo semantico, può sembrare eh vabbè, fondamentalmente la stessa cosa. Nì, perché poi il feedback spesso, come viene dato anche in contesti aziendali, ah guarda in questa situazione hai fatto x, y ed è come se fossimo messi un po' sul, fossimo giudicati e quello non piace a nessuno, anche se vengono fatti con il miglior delle intenzioni. Se invece ti do un suggerimento utile per il, per il futuro, quello è più facile che venga accolto e alla fine, se ci teniamo davvero affinché il feedback funzioni, deve essere accolto positivamente, perché tu puoi dare il consiglio migliore del mondo, se però l'altra persona lo ricepisce come un attacco, poi non... E in questo senso hai dei consigli anche da dare, in questo caso, alla persona, a delle persone che magari sono di questo tipo, che magari non riescono ad accogliere i feedback, che magari si sentono colpite, che magari si sentono accusate, si sentono in qualsiasi modo, c'è secondo te anche questo aspetto di poter lavorare su noi stessi per far parte di... in modo più... Guarda, sì, mi collega a quello che diceva prima Marco, no? Nel mondo della crescita personale spesso si suggerisce la fatandare, le persone con cui, le persone tossiche e tutto il resto. Verissimo, verissimo che nel momento in cui intraprendiamo un percorso di crescita personale è naturale che cambino alcuni rapporti nella nostra vita, allo stesso tempo se sono tutte persone tossiche, come spesso mi capita di leggere sui social, sono tutti tossici, l'ambiente è tossico, il lavoro è tossico, magari dovresti farti un esame di coscienza, magari quello sbagliato sei tu e magari sei tu che non sei in grado di gestire le emozioni, magari sei tu che non sei in grado di gestire la comunicazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è facile condannare sempre tutti gli altri, sono tutti tossici, però è molto più difficile fare i conti invece con quelle che sono le aree di miglioramento che abbiamo. Assolutamente. Marco, io so che tu fra poco devi... Vuoi aggiungere qualcosa e poi... Sì, sì, volevo aggiungere qualcosa su questo perché è stato importante per me anche e sicuramente faccio un... cioè sono d'accordissimo con Andrea sul discorso di persone tossiche perché adesso si parla tantissimo per esempio di narcisismo. Se sono tutti narcisisti forse che narcisista sei tu. La butto giù, se tutti i tuoi ex erano narcisisti, forse c'è qualcosa che non va. Comunque, a parte le battute, una cosa che ho imparato dai mastermind è che quando c'è una discussione, si discute di qualche cosa e si ha idee diverse, bisogna ricordarsi che lo scopo non è aver ragione in quel momento. Perché tanto a convincere se tu... cioè a convincere l'altro fondamentalmente non ci guadagni niente, supponendo che tu abbia veramente ragione, a convincere l'altro non ci guadagni niente. E questo vale anche per la persona che sta ricevendo il feedback, cioè non è che devi cambiare l'idea per forza, ma non è come dire... alla fine dopo un po' che si discute, ognuno può anche rimanere della sua idea, non è che c'è un giudice che dice alla fine chi ha ragione. E questa cosa la dico sapendo di essere una persona che vuole sempre aver ragione, che vuole discutere, cioè quindi ci ha lavorato in prima persona. Vi faccio l'esempio, per esempio sono andato spesso ad un evento di imprenditori digitali internazionali a Bangkok. E in quel caso c'erano dei mastermind molto piccoli, fatti con tipo cinque, sei persone. Sul momento, cioè durante la giornata, si faceva il mastermind per cui ti conoscevi con le persone, ti mettevi attorno a un tavolo, ognuno aveva circa un'ora, spiegava e dopo riceveva feedback. Quindi ti ritrovavi a ricevere feedback da sei persone diverse che non ti conoscevano, per cui c'era quello che te lo diceva morbido, ma c'era anche quello che te lo diceva non tanto morbido. E lì bisognava essere bravi. Il consiglio dello speaker a tutti inizialmente è stato non perdete tempo a explain away the feedback, cioè non perdete tempo a spiegare perché quello che è davanti a te ha torto. Cioè sì, potete discutere un po', ma non serve che tu spenda mezz'ora per dimostrare che hai ragione. Parane un po', ricevi il feedback e dopo c'è quello che vuoi con il feedback. Per cui lo scopo è crescere, non aver ragione. Ed è una cosa che ho dovuto imparare anche io fondamentalmente. Super, c'era una bella domanda di Roberto che diceva più che altro una constatazione che diceva che l'ultimo tema di mastermind potrebbe essere come possiamo rendere migliore il prossimo. Qui Andre voglio chiedere a te perché non ricordo se proprio forse stamattina, io sono un avido lettore delle tue newsletter e mi pare, ne hai parlato nella mail di stamattina o non mi ricordo quando l'hai mai data, che parlavi del discorso, facevi l'esempio che succede spesso quando in aereo ci fanno la dimostrazione, no? E ci dicono prima di mettere la mascherina agli altri metti la te stesso. E quindi voglio agganciarmi da quella frase a questo commento di Roberto. E quindi secondo te il tema è all'interno di un mastermind di un ecosistema, è come possiamo rendere migliore il prossimo oppure come possiamo rendere migliori noi stessi per poi essere in grado di poter aiutare meglio il prossimo. Sì, in realtà... Scusate, io vi devo salutare, devo correre a prendermi ufficio. Ciao Marco, grazie mille. Perché qua vivo a Lisbona, non ho un sistema di supporto chiamato nonni, quindi devo andare io. Va bene, grazie mille a tutti. Ciao Marco, grazie mille. Ciao Marco, grazie mille. Ciao ragazzi, ciao Belli. Mi collego quindi alla domanda che mi facevi. Sul tema della mascherina e ossigeno, in realtà nella newsletter facevo una sorta di critica, nel senso che quella metafora non mi fa impazzire, perché quella metafora dà per scontato che dobbiamo occuparci noi in caso di emergenza. No, dobbiamo lavorare su noi stessi molto prima, in modo tale che nei casi di emergenza poi siamo anche pronti ad affrontare. Quindi rispondendo alla domanda di Roberto, di Roberto Icardi, sì, sicuramente può essere utile dedicare del tempo del nostro mastermind a pensare ragazzi ma stiamo ottenendo i risultati che ci interessano, come lo migliorereste, cosa vi piacerebbe e lasciare poi la parola a tutti i partecipanti in modo che ci sia una sorta di brainstorming legato al possibile miglioramento. Detto questo, concordo anche con quello che diceva Marco sull'importanza, soprattutto all'inizio, di dare una struttura. È anche vero, e qui vi condivido la nostra esperienza diretta, è che dopo sette anni i nostri mastermind non sono così strutturati. Ci vediamo una volta all'anno, tre, quattro giorni e lì parte il, praticamente dalla mattina fino alla sera parliamo continuamente, poi facciamo sport insieme, facciamo magari sauna, tutte queste cose, facciamo delle hike in montagna, perché spesso andiamo nelle Dolomiti e in quel contesto molto naturale emergono tantissime cose, ma perché? Perché sono sette anni che ormai conosciamo certe dinamiche. All'inizio ci sta che sia ben strutturato. Super. Poi Elisa invece chiedeva un'altra bella domanda. In generale, quali possono essere dei buoni approcci per sciogliere un mastermind che non funziona più e poi scrive o eventualmente abbandonare? Ma io sarei molto, io sono sempre per l'assertività, dove assertività significa essere diretti ma nostronzi. Quindi nel momento in cui vi rendete conto che, allora, punto primo, se semplicemente avete avuto un'esperienza negativa durante un mastermind, cercate di riflettere sul perché avete avuto questa reazione negativa, se è stata, se magari avevate una giornata storta o altro. Non prendete delle decisioni in pulso, perché poi si rovinano i rapporti e tutto il resto. Se però vi rendete conto che il mastermind non va, non funziona, io molto semplicemente lo condividerei. Magari organizzerei proprio quell'incontro per pensare come migliorarlo e se dall'altra parte non vedete una disponibilità al migliorarlo, a cambiare determinate cose, in maniera molto diretta, tranquilla, potete dire ragazzi o ragazze, io non sono più sicuro di voler dedicare del tempo a questa attività perché non vedo un beneficio rispetto a quelli che erano gli obiettivi iniziali e quindi semplicemente se le cose non cambiano, entro il prossimo mese probabilmente deciderò di abbandonare, in maniera molto diretta. Più siete a vostro agio con voi stessi e più la vita diventa semplice. Chiaro, sono completamente d'accordo e ora volevo chiederti, ora che siamo soli e non c'è più Marco, quali sono le skills che ti ha insegnato a far parte di un mastermind di questo tipo? Nel senso ci sono delle cose che hai dovuto imparare per far coesistere la tua personalità con le altre due personalità, in questo caso l'interno del tuo mastermind o ci sono cose invece che hanno insegnato loro i comportamenti, le abitudini degli altri su di te? Cioè cosa ti ha lasciato di concreto poi? Ma in parte ne abbiamo parlato, quando Marco citava quella situazione in cui gli avevo dato questo feedback riguardo al fatto che lui tende ad essere molto confrontational, cioè tende ad andare, gli piace proprio lo scontro, la polemica e tutto il resto. In quel caso in realtà per me è stato uno spunto positivo, perché io invece tendo ad essere un po' people pleaser, nella mia vita lo sono stato, ed è un elemento della mia personalità che in realtà non mi è piaciuto negli anni, perché mi ha portato magari ad accettare delle condizioni che non erano positive per me. Quindi da Marco per esempio ho appreso questo spirito di combattività, cioè far emergere esattamente come la penso e difendere la mia posizione, ok? Perché a volte in passato ero molto più democristiano, passami questo termine. Quindi da quel punto di vista Marco mi ha trasmesso, per me è stato molto prezioso. Dall'altra parte Dario ha questa, con Dario abbiamo una differenza d'età in quasi dieci anni, nove anni, e ha questa energia e entusiasmo per tutte le novità, come diceva anche Marco, e quello mi ha portato ad avere una visione anche più ambiziosa, a volte su alcuni elementi legati al mio progetto. E quindi sicuramente da qui poter, come dicevo anche prima, poter confrontarsi con persone, uno, di cui condividiamo i valori, due, che siano complementari anche a livello di personalità e di competenze in determinate altre aree, è fondamentale. C'è anche un elemento di culo, di fortuna, perché ci siamo trovati con Marco e con Dario, poteva tranquillamente non funzionare, ci siamo trovati ad avere questi elementi complementari, a volte sono il punto di mezzo tra Dario e Marco, Marco dà tutta una serie di stimoli, Dario ne dà tanti altri, quindi ci sono tutta una serie di elementi anche a livello di personalità che hanno funzionato molto bene. Chiaro. E queste skills, soft skills, te le sei portate poi anche in altri ambiti della tua vita o sono comunque rimaste lì nel vostro mastermind, nel senso è qualcosa che hai portato fuori, hai cercato di riportare anche in altri contesti, oppure no? Ma ti faccio un esempio, noi di solito, una volta terminato il mastermind ho tipo due, tre pagine di appunti con tutte le idee che sono emerse durante il mastermind. Beh, vi vedete una volta all'anno, immagino che già arrivate con miliardi di... Esatto, cioè un miliardi di spunti, riferimenti, consigli letture, consigli documentari, strategie da provare, eccetera eccetera. E le persone che collaborano con me, quindi il mio team, sa che quando torno al mastermind sono casi, perché in quel caso sono molto carico e ho molta voglia di cambiare le cose, quindi ci sono poi questo tipo di impatti anche nella mia sfera lavorativa. Super. C'è Veronica che magari ti è perso un pezzo e chiede, ma dove le trovo persone così mastermind, così potenti, così accrescenti? Scusate, forse l'ho detto prima, ho perso un pezzo. Sì, dicevamo, ovvero che possiamo trovarli chiaramente, come ci diceva Andrea, sia in ambiti offline che in ambiti online, poi tanto riceverai le registrazioni e ti riguardi tutto. Andrea, volevo spendere gli ultimi 3-4 minuti che abbiamo per farci un po' i fattacci tuoi e chiederti quali sono a livello tuo proprio personale, quindi a livello di crescita personale, visto che anche tu sei un esperto in questo, quelle, chiamiamole ancora soft skill, insomma quelle qualità, quelle competenze che ti hanno realmente dato, ti hanno realmente cambiato l'approccio riguardo al lavoro, alla vita personale, alle relazioni, cioè c'è qualcosa che tu ritieni veramente importante a livello di soft skills umana che può realmente cambiare l'impatto che tu hai sulle altre persone? Può essere, non lo so, la comunicazione, di saper ascoltare, qualcosa di questo tipo. Proprio a proposito di soft skills ed art skills, proprio stamattina leggevo un post su LinkedIn di un mio contatto, che parlava di come questo formatore con cui ho lavorato distingueva queste skills in sapere essere e saper fare. Mi è piaciuta molto questa definizione, quindi soft skills, imparare a lavorare sul proprio sapere essere e le hard skills, quindi le capacità tecniche, il saper fare. Per quanto riguarda il sapere essere, uno degli elementi a mio avviso fondamentali è il nostro dialogo interiore, come cavolo ci parliamo. Quindi quella vocina che abbiamo nella testa è la persona con cui nel corso della vita condivideremo più tempo. Se impariamo a rendere quella vocina, poi sono diverse queste voci secondo le teorie, diciamo, delle elementi multiple, delle personalità multiple, non vi spaventate, significano che abbiamo diverse istanze psichiche che in qualche modo si confrontano tra loro e generano poi i nostri comportamenti, le nostre azioni. Se riusciamo a rendere queste istanze psichiche dei nostri alleati e non dei nemici o comunque qualcuno che ci sabota nella nostra vita, cambi totalmente la tua capacità di essere efficace e di generare risultati e raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi lavorare molto sul proprio dialogo interiore, inteso anche come la capacità di saper gestire, comprendere, far emergere le proprie emozioni. Quindi cos'è che voglio? Cioè perché mi sento così in questa situazione? Perché mi sento così facendo questo tipo di attività? Che cosa significa? Poi non è che dobbiamo perderci mille pippe mentali, però questa capacità di introspezione, questa capacità di saperci parlare, di saper essere anche dei genitori in qualche modo che si prendono cura di noi, magari cosa che non abbiamo avuto quando eravamo piccolini, nel senso che magari abbiamo avuto dei messaggi che non sono stati funzionali. Quindi imparare da adulti ad essere noi stessi genitori di noi, prenderci cura, darci dei messaggi positivi, motivarci, cercare di sostenerci nei momenti di difficoltà, dirci che siamo capaci di affrontare determinate tematiche. Quindi comunicare con noi, imparare soprattutto all'inizio a comunicare con noi stessi, perché come dicevo, se impariamo ad essere a nostro agio con noi stessi, poi la nostra vita diventa molto più semplice. Fantastico, e ti chiedo poi, conoscendo anche il tuo stile super concreto e che va dritto al punto, ci sono degli esercizi pratici che tu consigli in questo senso, quindi per coltivare magari il proprio dialogo interiore? Beh, sicuramente il diario cognitivo. Il diario cognitivo è una delle strategie più efficaci. Nel momento in cui mi trovo in una situazione di difficoltà, mettere per iscritto che cosa mi sto dicendo, oppure mi trovo ad essere particolarmente nervoso, particolarmente giù di morale. Se sto provando quelle emozioni, significa con ogni probabilità che mi son detto qualcosa negli istanti precedenti o nei minuti precedenti. Cercare di far emergere queste come mi parlo, che cosa mi sto dicendo, è utile per fotografare, fare un istantaneo nel nostro dialogo interiore e a partire da quello iniziare a modificare queste frasi. All'inizio ci dobbiamo dire delle frasi diverse, delle frasi migliori, un dialogo, dobbiamo instaurare un dialogo migliore, ne parlo anche all'interno di Autostima passo passo, e all'inizio questo tipo di dialogo diverso ci apparirà come un qualcosa di fittizio, cioè un qualcosa che non ci rappresenta. Ma è normale, perché dobbiamo sviluppare questi nuovi percorsi neuronali che non sono sviluppati nella nostra testa. Siamo abituati ad avere schemi mentali specifici, a ripetere sempre quegli schemi mentali. Se vogliamo che le cose cambiano nella nostra vita, dobbiamo sviluppare nuovi schemi mentali, nuovi percorsi neuronali, dobbiamo imparare a parlarci diversamente. Super, sono completamente d'accordo di una cosa effettivamente, l'ultima che dicevi che è successa anche a me, quello di sembrare che fosse quasi una cosa forzata, magari sembrava quasi di ricadere, ne parlavamo con Marco sul podcast, in quei famosi sacerdoti americani del pensa positivo, di quelle cose lì, e quindi un po' all'inizio sembra un po' di ricadere in colla. Sì, gli americani hanno questa famosa espressione che è il fake it till you make it, no? Quindi fingi finché non ci riesci. Però alla fine è vera, perché poi se prendi anche degli esperti in ambito psicologico, anche in Italia, ti parlano della tecnica del come se, ed è esattamente quello. Devi fingere finché non arriverai a vivere in maniera naturale quei nuovi comportamenti. Assolutamente. Andre, ti ringrazio di cuore, intanto chiedo se ci sono le ultime domande, altrimenti ti lascio andare. Grazie mille per averci dedicato questa oretta insieme. Vediamo se ci sono qualche domanda. No, comunque non è PNL. Io sono un po' allergico alla PNL, quindi no, tranquilli. Allora, su questo tema recuperate il podcast che abbiamo fatto con Marco, con Marco Zamboni che era qui un attimo fa, sempre sul mio canale YouTube che ne abbiamo parlato anche di questo. Andre, grazie di cuore, ti lascio scappare. È stato un piacere, complimenti per quello che hai organizzato. Roberto, stai facendo un ottimo lavoro. Grazie mille, ti ringrazio di cuore, ci sentiamo presto. Ciao Andre, grazie mille. Alla prossima. Buona serata. Ciao, ciao, ciao. Super.